Io sono assolutamente tranquillo, mi sembra che gli unici che saranno in piazza a protestare saranno quelli della sinistra, che è abbastanza bizzarro, per un processo che coinvolge un ex ministro che ci sia un partito di governo in piazza a manifestare, mi sembra surreale. Io ho totale fiducia nei giudici, quindi sono sicuro che a Catania faranno benissimo il loro lavoro. Ne stiamo approfittando per fare tre giorni di dibattiti che sono cominciati stamattina sul futuro dell'Italia, sulla scuola, sull'università, sulla giustizia, sul lavoro, sull'agricoltura, sul turismo, quindi Catania è una splendida città, la riempiamo di idee e poi io spero di non andare avanti per mesi con un processo che secondo me è assolutamente infondato.